Il business plan è diventato ormai uno strumento indispensabile o se ne può fare a meno? In realtà sì, è divenuto ormai uno strumento indispensabile e l'impresa è presa in una morsa a tenaglia se ci pensiamo. Da un lato abbiamo il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza che per obbligo impone di guardare avanti almeno 12 mesi, quindi di assumere un'ottica forward-looking, ma dall'altro abbiamo gli istituti di credito. Gli istituti di credito hanno delle linee guida specifiche, si chiamano linee guida EBA, che impongono una pianificazione finanziaria dello stato del cliente al fine di verificare la sostenibilità del debito, al punto di arrivare ad imporre alla banca stessa di redigere il business plan nel caso in cui sia l'impresa a non redigerlo. La nostra raccomandazione è di redigere il proprio business plan, perché affidare la redazione all'istituto di credito può essere foriera di problemi. L'istituto di credito può utilizzare strumentazione automatica che non necessariamente può rispecchiare le reali dinamiche delle imprese. Quindi grande attenzione, il business plan ormai è irrinunciabile e redigiamocelo da soli.